ciao amici youtube bentornati in questo nuovo video oggi siamo di nuovo su genshin come gli ultimi video abbiamo fatto per andare a prendere l'ultimo cinque stelle uscito che è xinonen che io speravo non mi sarebbe piaciuta invece ci è piaciuta tanto è molto forte ho già la build pronta che è una cosa assolutamente allucinante pensare di avere una build pronta però abbiamo il 50 e 50 abbiamo il pt mi sembra intorno al 30 mi sembra 29 di preciso l'obiettivo è prenderla c0 se per caso la vinco al soft quindi insomma con 3 4 multi ci arrivo magari ne tiro un paio su banner armi se non mi fermo c'è da tenere tutto perché ci stiamo avvicinando all'uscita dell'arcon abbiamo fatto la quest della 5.1 e ci è piaciuta veramente tanto 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 e lì si vuole costellazioni e arma si vuole tutto quindi nonostante lei sia molto bella qua si prende il minimo indispensabile e quattro stelle tutti ci sei quindi diventano pool molto utile per l'accumulo li ho tutti quattro stelle del banner mi manca qualche costellazione su chevrose che mi piacerebbe trovare mi mancano quelle di mica ma se le possono tenere mi mancano quelle di setos e mi manca qualcosa su tirara però ecco non mi interessa nessuno di questi personaggi quindi come vada vada e niente io adesso inizio il pool vi auguro buona visione dopo di me ci saranno i pool di tutti i ragazzi non dico niente vedrete vedrete una singola perché si va a 30 e poi si parte con le multi ora siamo a 30 tondo ok pt30 si va a 40 let's go pt40 e per quanto riguarda i nuovi arrivi mi sono piaciuti molto nella storia cioè io ovviamente il gameplay non l'ho visto perché lo sapete essendo content creator di genshin non guardo i nick quindi so già che hanno riccato tutto il gameplay sia di l'uno che dell'altra non li ho visti ovviamente però nella storia mi sono piaciuti molto quindi comunque sono dei bei personaggi tutti a prescindere che saranno poi forti o meno bene multi alle armi si inizia benissimo ok 50 e alla luce di questo discorso e gaza c'è va bene una pool c'è lc0 le vogliamo mi sono piaciuti tutti molto devo dire nessuno è stato marginale il che li rende anche più difficili da schippare onestamente onestamente quando succede questo rende anche più difficile schippare perché se magari qualcuno ti piace più di gameplay quell'altro ti piace di più perché nella storia ti ha colpito tanto magari anche se poi magari il gameplay ti piacerà meno magari ti piace tantissimo è un po' un casino 60 ok è un casino poi al livello di rerun bene una pool a livello di rerun c'è sempre il solito discorso raga ci sono tutti i personaggi che non tornano da una vita che si aspetta tornino e anche quelli si mettono nel mezzo diventa un problema perché c'è qualcuno vuole prendervi ottenze qualcuno vuole prendere scene qualcuno vuole recuperare quello anche quelle sono cool che vi vanno via se c'è un personaggio che aspettate veramente da tanto 70 i dispersi loro li chiameremo the lost oh io ho trovato tutte eh se non sei stato un banner con qualche quattro stelle che mancava avevo trovato una copia di tutti ero contenta ovviamente quando metteranno i prossimi quattro stelle nuovi non succederà mi usciranno solo quelli che ho già come vedercelo dai dammi doppio quattro stelle vi saranno inizio molti chiaro chiaro volta scorsa vi lo dai tutte le sara perché dovevo costellare le chevrose è sempre così bene doppia candace mi hai ascoltato bene doppia candace doppia pool multi da 8 ok siamo a 70 raga faccio le quattro singoline 71 liscia 72 ok 73 non adesso non adesso resisti 74 non adesso no no 74 no va bene va bene va bene mi aveva lagato va bene lascia 6 lascia 6 zitti tutti e lascia 6 e lascia 6 evvivo 10 let's go si riparte 4 stelle allora teoricamente quando c'è quello nuovo il motivo per cui ho capito che non c'era lei quando ho tirato la singola è perché non mi ha laggato di solito ogni personaggio nuovi lagga tende a laggare quindi in realtà se non vediamo il lagga quando parte la multi dovremmo essere già certi che non sta uscendo il 5 stelle però mai dire mai alcune volte non mi ha proprio laggato e poi c'era effettivamente il 5 stelle nuovo non è certo alcune volte lo fa alcune volte no il che rende tutto ancora più critico onestamente mi sembra anche chi inizio non abbia laggato tra l'altro 20 mi ricordo però mi sembra anche chi inizio tipo ok 4 stelle la cosa migliore che può fare è darmi i personaggi del banner come vi ho detto sono tutti già c6 anche doppi va bene anche le armi nel mezzo però comunque più personaggi mi dà nelle multi meglio è anche doppi 4 stelle anche se non è un'arma perché sono style glitter che io posso riconvertire in pull se poi per chaska arrivassi un po' indietro 68 dici kava vediamo sarebbe già una multi meno del soft quindi sarei già contenta 30 sarei più contenta se uscisse qui no ma non ha laggato alla 40 ci metterei la firma no non è vero vince dovrebbe essere così ma non è vero perché io non ho mai il team libero eppure mi lagga anche a me e io il team libero non ce l'ho mai 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 quindi dovrebbe essere come hai detto te e io credo fosse così però a me ha laggato più volte con io ho sempre il team full non lo lascio mai uno spazio libero ok 40 3 stelle ah quello che hai avuto te hammer a te ha laggato anche casa mia oh l'arma peggiore del gioco che bello che bello grazie ragazzi ma c'è qualcuno che sta usando su qualcuno la your perception sinceri 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 ho punti alle armi 50 cioè io penso di non averlo mai dato a nessuno e ne ho tantissimi eeeh dory no con lei no ma all'inizio forse ali su qualcuno l'ho buttato anche io ma dico ora cioè adesso nel 2024 eeeh 13 ottobre lo state usando su qualcuno ok allora ragazzi ci siamo quasi 60 e questa l'avevo vista a più tendita a quella una stella oh dory ti ho chiamato nella multi prima mi ha fatto aspettare io comunque ve la faccio eh la multi trick sia mai che poi ci perdo di nuovo il 50 e 50 insieme il dream quindi adesso faccio 70 poi io ve la faccio la multi comunque 70 non mi di che esci qui eh meno male a sto punto fammi arrivare al piti ma non esca anche la c1 mi immaginate ora esce anche la c1 mi immaginate bello c'è sempre personaggi subito accanto l'arma dopo ve l'ho detto a tutti se esce la c1 poi la vai no col cazzo io devo fare due piti non vale non vale a voi non avete dovuto fare due piti e prenderla c0 non vale allora 71 dai liscia ormai reggi liscia dai 72 quindi l'ho trovata a 74 prima no silenzio me lo donate voi il piti allora si fa col banner delle donazioni se ne può parlare così no 73 74 non uscire di nuovo qui eh meno male oh allora raga comunque vada sarà un successo anche perché se non esce qui ci si mette a urlare perché se non esce qui vuol dire che esce dopo piti 84 ragazzi cioè se non esce qui vuol dire che esce dopo piti 84 io mi vado a buttare nell'arno con queste bull dai multi a 5 stelle maledetta c'è stata una gatta non ha laggato non ha laggato visto non ha laggato a sto giro quindi 75 76 77 ciao con lei 78 qualcuno ha chiamato 78 no 79 oh ragazzi come Alice 80 81 no ragazzi 81 come Alice 82 82 ma ti pare normale ma ti pare normale ringrazio cialone puli ringrazio fermato 64 no 74 di già eccoci oh prima del piti amo che bello evviva incontro ogni aspettativa no ci si e che prima del piti cioè proprio me ne mancavano tantissimo ma guarda 65 era questa 66 67 68 xiloman xiloman che qua manca un pezzo sì ma le hanno dimensiato uno sgambino va bene e allora vai a molti si va a 80 e qui ha laggato tanto con i 5 stelle c'è davvero qui ha tirato una bella laggatola allora questo è proprio bloccare i giovi il treno di stagio in quel giorno 71 72 72 73 bello 74 75 si muoviti ok ok let's go 5 stelle ovviamente si siamo a 75 76 subito yes bomba assurda 50 50 anche l'ottima volta anche l'ottima volta sai perché Riccardo perché ti stai avvicinando preparati per Mavuica per se tutti non c'è nel banner però da me va bene esce adesso ok vediamo dai allora 61 62 ecco anche l'altro è un bel collezionismo 63 64 sembra tutto il male della pizza comunque 65 66 soft eeeh che giornatona per Riccardo eeeh forza Napoli forza Napoli forza Napoli 75 xylonen se esce in questa multi xylonen è napoletana 75 76 di paura 77 ma che cazzo con noi è napoletana è un'ultra di Napoli un'ultra napoletana lei va a fare i cori nello stadio ma che cazzo 77 dio gesù 78 79 yes ragazzi forza Napoli le amiche napoletane di Mario con lei xylonen con lei xylonen loro napoletane dentro qua stanno marufori dentro cuore da Napoli marufori esatto eccole qua eccole qua forza Napoli lei palesemente prossima stagione di temptation island in crisi col fidanzato eccola qua eccola qua palese uno due ma quante napoletane ci sono ma quante napoletane ci sono ma io non ci sto credendo 64 oddio così in singola oddio eccola qua eccola qua l'uraku misugiri eccola qua uraku misugiri l'arma di shiori eccola qua 67 oh è qui oh eccoci qua l'arma più tamarra eccola qua ci sono si fa pg la precedente era multi delle armi quindi vediamo oddio 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 ok abbiamo 50 e 50 raga allora siamo a 25 26 facile gg ok ci siamo ecco il momento te la senti amer non lo so in realtà no perfetto perfetto let's go e lagone qui ce ne sono 4 qui c'è qua qui c'è 4 xylone 4 xylone in questa volta qui c'è la prima una ok quanta è lei è lei è lei c'è ha laggato tutto allora qui le opzioni sono o è setos o è yao yao o è lei non accetto altre opzioni o è setos o è yao yao o è lei ma c'è la 5 stelle 41 42 43 tadaaa fatto thunder di xylone è totalmente così let's go aaaah 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 c'ho so aaaah non lo devo soltanto fenderla sono il cazzo di stardust per poter prendere l'ultima singola per la multis il permanente aiuto aspettate è uscito eravamo a 7 questo è 8 9 oddio giuso speriamo che l'hai perso almeno abbiamo il garantito per l'arcon speriamo speriamo 10 10 porca c'è 77 poi magari non c'è qua e invece sì e invece sì ok 68 69 paura 70 è in fondo 71 pasta cos'è 72 73 ci siamo nati siamo al soft 74 75 75 76 oh mio nooo li abbiamo vinte tutti li abbiamo vinte gli regaleremo in questa multi una yao yao ma che cazzo ma che cazzo ha pt 13 13 mana ok 40 eccola 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 molti delle armi molti delle armi ragazzi era molti delle armi quella prima 31 32 33 eccoci qua 33 ole eccoci qua vaiamo 75 76 77 Alberto 81 eccola 81 eccola 81 81 ah 40 aiuto addio zitti 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 forse c'è la rivalza zitti 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 41 zitti 42 oh mio dio 43 44 ehi la rivalza di amici prima multi l'arma 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 è la l'arma l'arma è l'arma Grazie a tutti.